Per comodità prendo in considerazione gli ultimi 15 anni in sostanza, da quando è partito un forte cambiamento del servizio sanitario regionale. Io ricordo sempre due elementi che sono piuttosto semplici. L'Emilia Romagna nel 1995 da sola era la causa di un terzo dell'intero disavanzo nazionale della sanità. Avevamo un servizio sanitario tutto centrato sull'ospedale con un minore investimento sul territorio e la popolazione è fra le più anziane d'Italia, la seconda per anzianità dopo quella della Liguria. Quindi si poneva un problema finanziario e un problema di innovazione. Da allora ad oggi ci sono stati poi ulteriori cambiamenti. Oggi la popolazione dell'Emilia Romagna è il 10% in più di allora. Pensiamo allora misuravamo la popolazione anziana negli ultra 65 anni. Oggi ricalibriamo le nostre valutazioni sulla popolazione di questa regione sugli ultra 75 anni. In questa regione oggi ci sono 500 mila persone che hanno più di 75 anni. Parallelamente sono raddoppiate le nascite, tornato un tasso di natalità piuttosto alto, siamo la regione col più alto tasso nazionale di popolazione immigrata, 400 mila persone. Se allora il cittadino è al centro delle organizzazioni sanitarie, evidentemente questi cambiamenti ci hanno imposto una riflessione e forti azioni di innovazione. Io do solo alcuni elementi. Allora noi facevamo in questa regione 190 ricoveri per mille abitanti. Oggi quei ricoveri sono stesi a 135 per mille abitanti. Però ad esempio parallelamente è cresciuta in maniera significativa l'attività di dei hospital. Ad esempio allora facevamo 22 mila cateratte all'anno, oggi ne facciamo 43 mila all'anno. E questo perché? Perché è una popolazione che invecchia, ad esempio uno dei bisogni che spesso ha è quello dell'intervento alla vista. Oppure ad esempio l'assistenza territoriale. È vero che abbiamo meno posti letti in ospedale, però è anche vero che abbiamo aumentato in maniera significativa gli assegni di cura, l'assistenza domiciliare integrata. Nel 2008 gli anziani assistiti a domicilio in maniera integrata sono stati più di 80 mila. Questi sono alcuni grandi segni di cambiamento e naturalmente la sfida continua perché non è che in sanità noi riusciamo ad avere un processo che si può dire concluso, proprio perché gli elementi che determinano la necessità di innovazione sono elementi dinamici. La popolazione cambia, ma ad esempio cambiano anche le opportunità di cura. Frutto della ricerca sono le nuove tecnologie, sono i nuovi farmaci e questo naturalmente porta una spinta al cambiamento. Ecco perché è sbagliata questa visione che tende a drammatizzare queste sfide. L'invecchiamento della popolazione, i prodotti della ricerca spingono i sistemi sempre fuori dalla compatibilità economica finanziaria. L'esperienza dell'Emilia Romagna secondo me è un messaggio di fiducia. Siamo la regione più anziana d'Italia, appunto dopo la Liguria, siamo la regione che mantiene, almeno questo è nell'opinione pubblica, è in tutti coloro che svolgono ricerca sul sistema sanitario nazionale, una delle regioni con il miglior sistema sanitario del paese, continuiamo ad essere una regione con i conti della sanità in ordine, quindi se si governano i processi che spingono al cambiamento, in realtà si trova anche un giusto equilibrio e questo forse è un messaggio anche importante per il nostro paese.